La regina e la più ampia famiglia reale potrebbero essere presi alla sprovvista dall'imminente libro di memorie del principe Harry, senza alcuna lettura preventiva del libro rivelatore del duca.Resta inteso che i membri della famiglia reale, inclusi il padre e il fratello del principe Harry, non riceveranno una copia anticipata del libro prima che raggiunga gli scaffali di tutto il Regno Unito. È probabile che il libro di memorie, che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno, non abbia mai visto rivelazioni dopo che il principe separato ha promesso di fornire un resoconto di prima mano della mia vita che è accurato e del tutto veritiero. Punto secondo il Telegraph, fonti vicine a suo padre, il principe Carlo, hanno indicato che si sperava che i membri del suo team avrebbero potuto leggerne il contenuto prima della pubblicazione. Tuttavia, hanno detto che era improbabile che fosse nella sua lista di lettura. Senza una data di pubblicazione rivelata pubblicamente, si ipotizza che gli editori Penguin Random House stiano pianificando uno sock drop del libro. Il che significa che c'è poca o nessuna pubblicità prima che il libro venga pubblicato. L'editore, consapevole del fatto che nessun membro della famiglia reale avrebbe mai citato in giudizio uno di loro, sta ancora correndo un grosso rischio con il libro secondo un insider. Dissero, questi editori non sono tipi da pubblicare e dannati. Hanno una reputazione da proteggere. Il più grande potenziale problema non è la diffamazione, ma la verità, l'accuratezza. Il più grande potenziale. Il più grande potenziale. Grazie a tutti.